che cosa avevi addosso? che ti ho dato un bacio? vieni qui devo fare l'intro amore fermo fermo ciak benvenuti in questo nuovo video oggi ve l'ho già spoilerato mi sa ma c'è una new entry lui è Bizet e questa sera è molto irrequieto ti sei attaccata alla mia maglietta? l'ho portato a casa mercoledì hai finito 17 ha solo un mese e mezzo ma mangia da solo lui non ha più bisogno della mamma fa già tutti i bisogni della lettiera è bravissimo e niente abbiamo avuto solo un qualche problemino con il cane inizialmente perché lui è piccolo e vede il cane grosso e quindi quando si avvicina al cane il cane gli abbaia e nel momento lui abbaia cioè la Grace abbaia di sé soffia grazie piano grazie amore fai piano piano bravo no mi fanno morire perché lei cerca di morderlo ma non lo prende lui cerca di prenderla ma non la prende quando si dice canale ma lei vuole giocare solo che lui può morire ma non ha paura ma stai quanti zappate che si sta prendendo ma ne becca una su 5 mi sa che questa notte è dormita è una notte poverina e quindi eravamo un po un po così abbiamo cominciato a tenerli inizialmente distanti e poi piano piano dei momenti in cui abbiamo cercato di avvicinarli e adesso ogni tanto giocano ogni tanto lui ancora soffia però si stanno abituando quindi credo che andrà tutto bene e niente bravissimo di notte dorme con me ogni tanto mi fa gli acquati mentre dormo vero bisè rincorre le ombre gli piace giocare con lo specchio con la sua immagine e niente adesso vi faccio vedere un po come è andato cioè come sono andati questi primi buon sei giorni mi sembra questi primi giorni e niente vi lascio al video ciao c'è la sorellina con me c'è la sorellina a casa che ti rispetta amore esploro i gatti sono esploratori Grazie a tutti Dov'è? Giochiamo un pochino Giochiamo un pochino Giochiamo Giochiamo un pochino Giochiamo un pochino Giochiamo un pochino Giochiamo un pochino Vado in palestra Così avrò un deficit Amore Amore della mamma Bisè non forte però eh Cosa cerchi? Ma sei il gattino più dolce del mondo Dove vai? Dove vai? Bisè? Dove vai? Eh sì Quali sono i vestiti della Emma Guarda che alto è Non saltare giù C'è ancora un po' piccolino per far certe cose Eccolo No Ti sembra normale? Eh? Amore Amore Bene Gatto suicida Vieni giù Ti prendo? Salta che morbido Salta che morbido Pfff Aia Ma mi puoi fargli agguati dal buco? Ma Ti sembra? No raga Cioè non so se Capite che c'è un buco C'è sotto la mia mano E lui mi fa gli agguati Brise Salta Ma cosa fai? Non c'è niente lì Uh? Salta Salta gatto No Dove vai? Vieni qui Mamma santa Disastro Ancora? Oh mamma santa Preso Ti ho preso Ti ho preso Ti ho preso La mamma ti ho preso al volo Ma Tutto bene? Ma tutto bene? Ma tutto bene? Ma tutto bene Oh mamma santa Pronto Quella è la tua coda però eh Eh si È proprio la tua coda Io dovrei dormire Ehi tu Io dovrei dormire Mi sei? Dobbiamo fare la nanna Non dobbiamo giocare No raga Sono senza parole Lo amo Cioè lo amo con tutto il mio cuore Patatina Tu sei un po' fuori di testa però eh Mi fa ridere perché ogni tanto attacca al nulla Grazie Grazie Cosa cerchi? Stai per caso cercando Bizet? Dov'è Bizet? Dov'è Bizet? Sapete che non lo so neanche dov'è Bizet? Ah eccolo dov'è Sulla sedia Cioè lei lo cerca lì ma lui in realtà è qui Bizet Bizet No è tornato No No ma non l'ha visto Cioè proprio Vabbè Sulla scartiera sta mangiando perché Lei vuole giocare Solo che lui Sì Devi fare l'orizzontale Bizet Cosa stai facendo con il mio telefono? Ma chi è? Oh mamma Ecco Se metti La zampina lì non si vede niente Oh ecco bravo Cosa stai facendo? Perché hai paura del mio gatto? Mi ha attaccato quel coso Eh ma perché senti che sei la padrone del tuo cane Cibolo E non vanno d'accordo Bizet Cosa stai facendo? Quello È il mio cuscino Posso vedere se vuole la mia con il cuscino No Ma perché? Poi tu dici che io sono cattiva col tuo cane Ma tu sei crudele col mio gatto Ma perché lo guarda così storto secondo te? Va bene Grace Cosa vuoi fare? Spiegami Oh No Mi sa che lo sta cercando Dici che mi attacca ancora? Ma no che non ti attacca Perché mi attacca? Probabilmente perché senti l'odore del tuo cane È una svegliola il tuo cane comunque Raga dovete capire che prima Bizet si è infilato in mezzo allo specchio qua E adesso Grace è passata qua dentro per cercare il gatto Quello che mi fa ridere è che lei non vede al di sopra del suo lato Non so per quale strano motivo Però se ti puoi mettere il gatto in alto Dici a Grace Spoiler Ok Ma amore ma dove sei finito? Dove ti sei messo? Eh? Tu non sei normale Sei comodo? Contento tu? Basta che non mi finisci giù? Non è Non è Biset Tu dovrai studiare Biset Biset Non è Biset Non è Non è Non è Non è Non è guarda che sei io dovrei studiare tu vuoi farti fare le coccoline sulla pancia e giocare con la mia penna giustamente no? perché io mentre scrivo tu mi muoci il tappo no oh bravo quella è la tua coda però quella è la tua coda quella è la tua coda e beh mi sembra logico ma dove vai? eh? ha preso questo dovrebbe fare rumore ma c'è un buon cuore ah mi ha preso un titino cioè il tiragraffi di il tappeto ti mangi io non lo so amore devo andare in palestra che c'è? beh sì effettivamente tu sei il mio gatto ne sono più che certa siamo arrivati alla fine del video spero che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tanti like attivate la campanella vi direi cosa stai facendo un attimo da me e il mio amorino è tutto e niente vi terrò aggiornati sulla nostra situazione la situazione con Grace niente adios grazie a tutti